A livello europeo, soprattutto nell'area mediterranea, i livelli di sostanza organica sono veramente preoccupanti perché c'è proprio una carenza di sostanza organica nei suoli. Ricordiamo che la sostanza organica rappresenta la principale caratteristica della qualità di un suolo e quindi anche della sua fertilità. Il 60% circa della sostanza organica è rappresentata da carbonio organico e i suoli, mediamente in Europa, hanno un contenuto, una concentrazione in peso che è inferiore al 2%. Sono dei valori soglia perché al di sotto di questi 1,5-1% il suolo va incontro a fenomeni degradativi molto importanti, quindi la desertificazione. Grazie per la visione!